RISK ASSESSMENT Valutazione del rischio. E' questo il soggetto del video che state per vedere, realizzato a cura dell'Associazione di Mori Storiche Italiane all'interno di un progetto europeo SOS Heritage con la finalità di sensibilizzare sul tema della valutazione del rischio in diversi settori legati al patrimonio storico-artistico, sia edilizio che non edilizio. Questo corso verrà tenuto presso l'Università di Krems in Austria, che è uno dei partner di questo progetto SOS Heritage finanziato dall'Europa. Ma cosa contraddistingue una dimora storica? Cosa la rende particolare? Quando noi visitiamo un museo, vediamo una collezione, che può essere di dipinti o di altri oggetti, che è stata composta da uno storico dell'altro, da un team di esperti, e collocata in uno spazio istituzionale. In una dimora storica ci troviamo in una situazione completamente diversa. Ci troviamo in un contesto che è rimasto pressoché, diciamo così, immutato nel tempo. Gli oggetti che vediamo, i dipinti, i soprammobili, immobili, le stampe, gli archivi, se ce li fanno vedere, sono stati prodotti, scelti, voluti, dalle persone che hanno abitato quei luoghi di secolo in secolo. E quindi per il visitatore l'esperienza è totalmente diversa. Non vi è soltanto la componente culturale di vedere oggetti legati, nei diversi casi, alla storia locale, alla storia nazionale o ad altri aspetti, ma ci si trova di fronte a sperimentare, a vivere l'esperienza di un luogo che mantiene un'aura che si è formata attraverso questa sedimentazione nel tempo. Una dimora storica, in molti casi, è composta di molte parti assai diverse e con funzioni molto separate tra di loro. Vi sono le aree auliche, gli affreschi, i mobili antichi, le collezioni, vi sono gli appartamenti, ma poi vi sono gli spazi di servizio, le scuderie, le cucine, i magazzini. Ricordiamoci che molto spesso vi è una sala dedicata alla musica, in alcuni casi vi erano dei piccoli teatri, sicuramente molto spesso gli archivi e le biblioteche. Ma nel corso del ventesimo secolo le forme di vita sono cambiate per tutti, anche per queste antiche famiglie che possiedono queste dimore così significative. E quindi è venuta meno una figura, in molti casi, non sempre ovviamente, che una volta era data per scontata la presenza in queste dimore di persone che vivevano tutto l'anno, custodi e altre figure, che quindi monitoravano qualunque cosa accadesse. Una perdita nel tetto, un tubo che si rompeva, qualunque altra cosa che ora non sto a immaginare, veniva individuata e si pondeva immediatamente attenzione alla sua riparazione. Oggi le famiglie li frequentano in modo irregolare e quindi la possibilità automatica di individuare i rischi e di condurre in modo cadenzato alla manutenzione è venuta meno. Ed è questa una delle caratteristiche che rende così fondamentale la valutazione del rischio nel patrimonio storico edilizio privato. L'architetto Gasparoli, l'ingegneri Urina e l'ingegneri Bassoli hanno insegnato a lungo presso il Politecnico di Milano. Presso questa istituzione ha insegnato per molti decenni tecnologia del restauro l'architetto Carlotta Fontana. Sono Carlotta Fontana, professore ordinario di tecnologia dell'architettura al Politecnico di Milano. Ho conosciuto Francesco e questo palazzo, Palazzo della Marmora, direi più di 35 anni fa, quando ha sposato Silvia, che è una delle mie migliori amiche. Ci conosciamo dai tempi dell'adolescenza e quindi questo palazzo l'ho conosciuto per motivi personali e non professionali. Io ho fatto la conoscenza dell'architetto Fontana a metà degli anni Ottanta ed è nata una relazione di accudimento da parte sua di Palazzo della Marmora. Tutti gli aspetti della manutenzione ordinari e straordinari del palazzo che io ho affrontato li ho in qualche modo discussi con l'architetto Fontana ed è quindi grazie a lei che ho potuto, quando sono emersi dei problemi specifici e di particolare acutezza, ho potuto avvalermi di persone di altissima qualificazione. Prima, per esempio, la professoressa Luigia Binda, oggi Lorenzo Iurina. Ma anche il rapporto con Paolo Gasparoli e con Andrea Bassoli deriva da questa connessione. La filosofia di intervento fin dall'inizio è stata quella di mettere mano in maniera delicata e il più possibile appunto conservativa a questo edificio come un organismo di cui è necessario conoscere molto bene lo stato di salute e quindi tutta la questione diagnostica di cui parleranno poi i miei colleghi che sono intervenuti tecnicamente nel corpo del palazzo e di delineare un processo di interventi intesi come un processo continuo di conoscenza e di, in primo luogo, manutenzione. Stiamo parlando di questioni che riguardano da vicino la prevenzione del rischio, per esempio, la prevenzione del rischio e quindi la valutazione del risk assessment, quindi la valutazione di quanto gli elementi di rischio, quali siano quelli principali, quali siano quelli secondari, quali siano i momenti in cui c'è da agire con maggiore urgenza e quali sono gli elementi in cui il degrado produce un danno maggiore, rilevante e veloce e quelli invece dove le condizioni di degrado non sono così importanti quindi l'affrontarle può essere dilazionata. Queste sono tutte questioni che ovviamente di cui appunto parleranno più diffusamente e in maniera più sistematica i miei colleghi, io volevo soltanto appunto introdurre questa coralità.